Paura a Castiglion Fiorentino, Valdichiana, a Retina, per l'incendio di una palazzina in via Fabianelli vicino alla stazione ferroviaria. L'immobile è un condominio di recente costruzione ad andare a fuoco l'appartamento che si trova al secondo piano. A dare l'allarme sono stati i condomini del piano sovrastante che si sono resi conto della situazione quando ormai le fiamme avevano invaso l'appartamento. Impauriti hanno raggiunto il tetto dell'abitazione e qui sono stati tratti in salvo dai vigi del fuoco di Cortona con l'ausilio dell'autoscala intervenuta da Arezzo. In tutto tre le persone rimaste intossicate per due di loro e è stato necessario l'intervento del 118. Si tratta di due ragazze nigeriane di 24 e 19 anni trasportate all'ospedale della Fratta in codice giallo e verde. Gli occupanti dell'abitazione andata a fuoco invece non erano in casa, pare fossero usciti per una passeggiata. Sono stati i carabinieri ad informarli di quanto accaduto raggiungendoli nella gelateria del paese. L'origine delle fiamme potrebbe essere stato un cortocircuito dell'impianto stereo. Entrambi gli appartamenti sono inagibili in attesa delle operazioni di ristrutturazione e bonifica.